buongiorno oggi è il quindicesimo giorno di viaggio la quindicesima tappa non potevo non salutarvi da portofino dove ho ormeggiato non so se vedete che non la prendo adesso la prenderò dopo alcuni dati tecnici fino adesso ho fatto più o meno 1200 chilometri quasi 18 mila metri di disdivello una marea di ore le ore non si contano però va bene poi merita tutto questo e niente volevo fermarmi a fare colazione ma no mi sa che vado in un baretto vicino al posto ma non non apporto vicino alla prossima ciao